Capitolo 21 ragazzi, l'avevo detto che era per cuori forti e tale si è rivelato Oh merda, che succede? Ok, via M4, forza Fuori Bene No, stai giù Chi è? Sempre quel bastardone laggiù Questo Ma però è fighissimo Saltare di palo in frasca così è bellissimo Ok, vai giù Dove spuntano fuori? E ti han seguito ciccio? Spare to razzi del cazzo, vai Che buco di culo che ho avuto Certo che non essendoci il respiro Is not easy Oh non mi hanno preso, incredibile Tanto prima o poi ci si schianterà comunque Ci si schianterà comunque E muori Oh Bello lì No, quella è Elena, scusa Ok Ok, vai, ciao Ok, l'importante era arrivare qui Questo è praticamente il rifacimento del capitolo 7 Di lanciarti d'uno Dalla padella Puntini, puntini, puntini Perché è quello Tanto tu te ne vai via così Ok Fuori, fuori 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 anche te Chi è il prossimo? Lui, fuori Eh, te pareva Andata? Bravissimo Bravo Drake Tanto Andrà a finire che Cappotteranno anche noi sicuro Oh no Bravissima Ellen No Non possono essere sopravvissuti Andiamo Chi lo dice Secondo me sono Sopravvissuti per forza Però Come? C'è, c'è tipo Rialzino lì sotto Forza Abbiamo perso la carovana però Eh, sì Come ai vecchi tempi, eh Puoi dirlo forte Come ai vecchi tempi Adesso Eh, è bel posticino, eh Che ci han portato Peccato non aver proseguito, ragazzi C'ho lo sapore di aglio in bocca Da prendere due gomme Per forza, scusate Ecco Shaffer Dannazione Che succede? Shaffer Figlio di Lucky Queen Anzi, fratello Ah, la Zare vince Scarface Ok Sei pronta Certo che lo sono Cazzina Cazzina di nuovo Anzi Capitolo 22 Monasterio, ragazzi È durato pochissimo Sto capitolo qua Vabbè, capitolo Di passaggio Di transito Rispetto a certi capitoli Veramente lunghi Che abbiamo vissuto prima Vabbè Non c'è problema Almeno Sarà una Guerriglia assurda Ma Almeno abbiamo modo Di iniziarlo In maniera Direi anche Abbastanza tranquilla Bella vista Prima c'è una bella rampicata Da farsi No, no Stavo parlando delle montagne Davvero Forza